in questo video vediamo come si ruotano le piastrelle centrali di un cubo decorato come questo qua io in questo caso utilizzerò un cubo con le frecce perché le piastrelle centrali nei cubi decorati ruotano mentre si risolve il cubo di rubik quindi quando avete finito il cubo potreste trovarvi nella necessità di dover ruotare alcune piastrelle centrali del cubo e qui adesso vi faccio vedere come si fa ci sono tre casi differenti ed ora vediamo il primo il primo caso che è più semplice è quando si deve ruotare di 180 gradi la parte frontale del cubo quella che guarda verso di noi allora in questo caso abbiamo la freccia che guarda verso l'alto noi adesso la giriamo di 180 gradi e dopo questa serie di mosse che adesso vi faccio vedere avremo la freccia che invece che puntare verso l'alto punterà verso il basso e questa sarà l'unica piastrella che noi andremo a ruotare con questo algoritmo qui allora si prende il cubo e con la frecciata che ci interessa ruotare di 180 gradi e si fa così si fa f r l f 2 1 e 2 r primo l primo e adesso si ripete di di nuovo la sequenza qui abbiamo f r r primo l primo ecco che abbiamo ruotato di 180 gradi la piastrella centrale che ci interessava mentre sono rimaste invariate tutte le altre adesso vado a mostrarvi il secondo caso che può che può capitare allora con questa serie di mosse che adesso vi faccio vedere noi andiamo a ruotare di 90 gradi la piastrella che guarda verso di noi quindi questa che va verso l'alto noi ce l'avremo che va verso destra mentre andremo a girare contemporaneamente in senso anti orario sempre di 90 gradi la freccia che sta alla nostra destra quindi questa che guarda verso l'alto andrà verso destra dopo questa serie di mosse questa invece che guarda già verso destra guarderà verso l'alto in senso praticamente si gira in senso anti orario di 90 gradi allora tenendo il cubo sempre come l'ho tenuto prima noi abbiamo r l primo l primo u primo d f b primo r primo r primo r primo u u u l r primo f ecco qua questo adesso guarda verso destra mentre questa guarda verso l'alto come ultimo caso abbiamo questo qui allora con questa sequenza di mosse che adesso vi mostro andiamo a girare la piastrella centrale di 90 gradi in senso orario quindi questa qui che adesso guarda verso il basso guarderà verso sinistra dopo questa sequenza di mosse mentre quella all'opposto quella sul retro del cubo verrà girata di 90 gradi in senso anti orario quindi invece che guardare verso l'alto questa freccia e guarderà verso sinistra la sequenza di mosse è questa qui allora noi dobbiamo fare r l primo u2 d2 r r l primo b primo l r primo u2 u2 d2 l r primo f ecco che la piastella verso di noi adesso guarda verso sinistra e quella sul retro anche guarda verso sinistra Grazie a tutti.